3.000, non si riesce a buttare giù questo tetto del contatto, perché? Quella è la misura più semplice, basta volerlo. E perché non lo vogliono i politici di centro-destra, ma non lo vogliono neanche alla fine i politici di centro-sinistra? Perché non è una misura molto popolare, perché ciascuno di noi nella vita corrente può trovare più utile in certi casi fare acquisti, mi ricordo che una volta un grande politico mi faceva l'esempio di un acquisto di un piccolo gioiello, magari poi non necessariamente per la propria consorte e insomma poterlo fare in contanti non lascia tracce, se non nel bilancio dello Stato.